Ciao Mattia. Buongiorno. 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 Massi. Ciao a tutti. Allora. In questa stanza ci sono 80.000 gradi, dobbiamo fare una pausa. Abbiamo chiuso il pezzo numero Che numero è? 8 Numero 8 Quando giro hanno 8 pezzi La discussione è nello studio di Danilo Benvenuti nello studio di DJ Arch Dove praticamente vengono prodotti tutti i midday Terzo giorno in studio Buongiorno, siamo qua Io sembra che sono qui da ieri sera Abbiamo finito, faccio vedere un po' Qua c'è un studio di Ax E' un disco di Platino Fatemi vincere un disco di Platino anche a me Ah ma non è qua, Gio? E' sparito, mi sembra l'attivizzato Si è un bello stacco lì Un ostacco magari qua che riparte Mi ha fatto l'intro Siamo quasi alla fine di questo Bellissimo Mi piace Mi piace il disco, mi piace Un disco quello, cosa dici? Maybach Music Selfmade, volume 1 Cioè mi sono sparato tutto in una bomba I'm a boss I'm a boss Il disco spacca Merda fresca Di Fedez Pronto giorno Abbiamo finito oggi, sono meno depresso di ieri Ciao la voce di più Ciao Un signolo di campagna Benvenuto Bella raga Benvenuto Ciao Il pezzo dello zainette è la vera ITP realtà Abbiamo finito Era ora che ti levasse le polizioni Ti strondo con Killacat E abbiamo finito le watch praticamente Sì quando parlo da solo sto parlando con la giocavera Ma con chi parla? Cioè vabbia che hai fatto il record Non vedete proprio così la studio che mi distrae 21 tracce in 4 giorni Però Basta eh Tutti i miei sbagli rimasti risolti senza mai un perché Ricorderò quella voce infame Ora muta davanti a me Scusami Ho un costecato Non lo